Ciao ragazzi, io sono Hashtag, l'archiviatore virtuale, nato per diffondere un messaggio, Hashtag Dialogue, coinvolgendo tantissime persone, anche cantanti e personaggi famosi. Per far questo abbiamo bisogno del vostro aiuto e della vostra conoscenza, fatta di parole, Hashtag rispetto, lo sapevi? Anche nel racconto di una favola puoi creare un Hashtag per promuovere la cultura della legalità. Con me puoi scoprire le magie di Magopino, video divertenti del poliziotto prestigiatore. Per conoscere e condividere le regole della strada, Hashtag gioca con la polizia, un simpatico centauro ti accompagnerà attraverso filmati e giochi divertenti sulla giusta strada. E visto che siamo online, per non correre rischi e divertirci in sicurezza, Hashtag stai connesso con la testa, esserci sempre, polizia di stato.